I gioielli rappresentano i nostri ricordi, le nostre emozioni. Il tempo non può certo cancellarli, ma a volte può rovinare gli oggetti che li custodiscono. Nel nostro laboratorio orafo ripariamo i gioielli, li lucidiamo, li saldiamo, ci occupiamo della rodiatura e dell'incastonatura. A volte diamo nuova vita a vecchi gioielli, altre volte li personalizziamo e così scolpiamo un nuovo ricordo al suo interno. Oro in euro è prendersi cura dei tuoi ricordi oppure dagli nuova vita.